Buongiorno sposini e benvenuti su Nozzeggiando. Io sono Sara e nel video di quest'oggi voglio farvi vedere come realizzare una decorazione di nozze con questo materiale che è un polistirolo denso. Infatti andrò a realizzare un logo con le iniziali degli sposi per creare questa decorazione da mettere magari sul tavolo delle bomboniere o su quello della confettata o perché no sul tavolo degli sposi. La realizzazione sarà un po' lunga quindi adesso vi lascio al video che sarà svolto, realizzato e girato in più giorni e quindi vedrete poi tutti i passaggi per poterlo realizzare. Sono andata prima di tutto a stampare il logo, il disegno e come vedete un cerchio concentrico che rappresenta lo spessore della cornice circolare che sarà intorno al nostro disegno. Sono andata poi a unire i vari fogli, come vedete c'è un po' di scotch perché ho stampato su dei fogli a quattro, poi ho girato il mio disegno e sono andata a ripassare con la matita tutto il disegno al contrario, mi sono appoggiata sulla finestra per aiutarmi. Poi ho appoggiato il foglio sul polistirolo e ripassando con la matita il disegno è rimasto impresso. Come vedete qui le linee sono leggermente più spesse, sono andata quindi poi a correggere a mano gli spessori come avrei voluto realizzarli. Una seconda volta poi ho ripassato il disegno per andare a creare la cornice, ovviamente dobbiamo poi realizzare ogni singolo pezzo sul polistirolo che poi andrà tagliato. E questo è il risultato finale, quindi il cerchio con cui realizzerò l'anello da mettere sui bordi e poi le lettere. Per tagliare ho utilizzato sia il taglierino sia il filo a caldo, come vedete ho preso questo macchinario semplicissimo per farvelo vedere perché se siete alle prime armi e volete provare potete comprare magari questo che è super economico, l'ho preso su Amazon, vi lascerò il link nell'info box. Se invece volete spendere qualcosa in più perché pensate di fare più lavori di questo tipo io vi consiglio l'archetto a caldo che ha un prezzo leggermente superiore però anche una precisione migliore. E qui infatti ecco come sono andata a tagliare piano piano perché in questo caso bisogna andare veramente lentamente per essere precisi ogni singolo pezzo. Ogni tanto vi ricordo di tendere il filo in modo che il taglio sia più preciso perché comunque spingendo col polissirolo tende un pochino ad allentarsi. E qui come vedete sono andata a tagliare questi vari ghirigori, queste forme un po' stondate andando sempre con calma. La cosa comoda diciamo di questo strumento è che ha questo piccolo piano d'appoggio che ci aiuta a fare un taglio a 90 gradi. Qui ho tagliato l'anello, le lettere e anche i ghirigori. Non verranno precisissimi quindi vi consiglio di prendere carta vetrata da 180 e andare a scartavetrare. Vedrete che diventerà liscissimo, ovviamente più pazienza avete nel sistemare i piccoli errori più diventerà preciso. A questo punto non ci resta che andare a incollare i due ghirigori all'anello esterno. Io utilizzerò la millechiodi perché è perfetta per il polistirolo, non lo brucia, non lo rovina. Solo successivamente andremo a incollare anche le lettere, una volta che poi andremo ad incollarle sullo sfondo. Quindi prendiamo la colla, io mi aiuto con un pezzettino di cartoncino per andare a stenderla. Dopodiché applichiamo gli ghirigori in questo caso sull'anello e andiamo a fissarli con dello scotch giallo. Quindi lo scotch, quello di carta. Non utilizziamolo appena strappato, cerchiamo di passarlo magari sulla mano o incolliamolo prima sul piano di lavoro in modo che perda un pochino l'aderenza e comunque non vada a rovinare il polistirolo. Fissiamolo in vari punti. Questa colla ci mette 24 ore a completare la sua asciugatura, quindi mettiamolo da parte e lasciamo asciugare tutto per bene. Quindi mettiamo da parte il polistirolo che sta asciugando, prendiamo le lettere, un pennello colori acrilici, in questo caso il blu, e andiamo a colorare le lettere. Io do una prima passata, poi lascerò asciugare e se serve si dà anche una seconda mano. In questo caso mi vedete usare un pennello abbastanza largo, quando poi invece andremo a colorare il resto del logo, vi consiglio di utilizzare anche un pennellino un pochino più sottile perché soprattutto in base al font che sceglierete, al disegno che sceglierete, se ci sono degli spazi un pochino più stretti, può essere utile appunto usare un pennello un po' più piccolo. Ecco qui, sono passate 24 ore, nel frattempo la colla si è asciugata e quindi vado a colorare anche la cornice di questo loghettino che stiamo realizzando. Come vedete ci sono delle zone un po' da ritoccare, qui sta ancora finendo di asciugare, ma quindi magari sarà necessario dare una seconda mano per uniformare un po' il tutto. Ed ecco qui il risultato, le lettere, la cornice, i ghirigori, tutto blu, perfetto. Il fondo potrebbe avere qualche piccola imprecisione, ma in realtà poco importa perché tanto andremo a incollarlo. Mettiamo le lettere da parte, prendiamo la nostra circonferenza e io in questo caso ho deciso di realizzare lo sfondo con della carta perlata bianca, quindi ripasso la circonferenza e poi con le forbici vado a ritagliare il mio disco. Ecco, come vedete si può appoggiare quasi perfettamente nel caso ci fossero un po' di modifiche da fare, ovviamente se andiamo con la matita e con le forbici andiamo ad aggiustare il tutto e poi sempre con la mille chiodi andrò ad attaccare lo sfondo. Di nuovo mille chiodi e vado ad incollare anche le due iniziali, stendo la colla facendo un pochino di attenzione con un pezzettino di cartoncino perché comunque le lettere sono strette quindi non voglio sbordare troppo e vado ad applicarle. Nel caso comunque ci fosse un po' di colla in eccesso prendete un pezzettino di cartoncino e andate a togliere i pezzettini di colla di troppo. Arrivati a questo punto possiamo posizionare il piccolo supporto che ci servirà per far rimanere in piedi il logo. Può essere uno o possono essere due, in questo caso vi faccio vedere come in colla il primo ma io in realtà ne ho applicato due. Di nuovo mille chiodi, come vi ho detto qui ne ho messo due e dopodiché dobbiamo aspettare che asciughi. Quando sarà asciutto di nuovo acrilico dipingo sia i supporti che tutto il retro del cartoncino perlato che ho applicato. Questo anche perché correggerà eventuali piccoli errori, piccole imprecisioni se il cartoncino non è esattamente a filo del polistirolo. Per completare la decorazione sto aggiungendo un altro strato di acrilico e andrò a versare sopra le lettere, sopra il resto del polistirolo, un po' di glitter. Possiamo utilizzare quindi questa tecnica, mettere un po' di acrilico e poi versare il glitter, oppure ancora prendere un po' di colla vinilica, diluirla leggermente con un po' d'acqua, aggiungere il glitter e poi andare a spennellare questi glitter su tutta la superficie del polistirolo. Questa tecnica l'ho usata sul cartoncino bianco, nonostante sia già parlato, per dare ancora di più un effetto glitterato. Se non siete delle amanti del glitter potete decidere anche di semplicemente dare una mano di un vernice trasparente in modo da rendere il logo più lucido per un effetto diciamo un pochino più rifinito. Io non sono un'amante del glitter però ho deciso di fare questo esperimento. Spero quindi che questa idea vi sia piaciuta, ovviamente ognuno poi potrà personalizzare i colori, il font del logo. Le decorazioni, io l'ho trovato un'idea molto carina e particolare, sicuramente inusuale per decorare magari appunto il tavolo delle bomboniere come vi dicevo all'inizio del video. Se avete qualche domanda, qualche dubbio, volete lasciare un commento scrivetemi sotto questo video e ci vediamo prestissimo con dei nuovi tutorial. Ciao! Se ti è piaciuto questo video ricordati di mettere mi piace, di condividerlo e di iscriverti al canale per restare sempre aggiornato. Se vuoi seguirmi anche sugli altri social trovi tutti i link nell'info box.